orto mio per darvi giusto un'idea è un grande vivaio che si trova a forlì e che si è impostato ormai da più di vent'anni solo ed esclusivamente per la produzione di piantine da orto per il mercato hobbistico quindi non fa piantine d'orto per il professionale lavora solo ed esclusivamente in funzione vostra per l'amatore che deve fare l'orto e quindi cerca con tutto il suo lavoro di rispondere alle vostre esigenze detto questo andiamo a vedere intanto cosa propone e cosa si propone il corso intanto di fornirvi dei consigli pratici per coltivare l'orto in maniera semplice e anche rispettando la natura è importante anche tenere presente la natura e anche a volte il nostro vicino di orto perché a volte negli orti comuni per dire c'è anche un vicino di orto che va va rispettato si propone anche di aiutarvi a coltivare ortaggi che siano sani buoni e anche sicuri questo perché dobbiamo mangiarli noi e dall'inizio alla fine possiamo seguire tutto quello che gli viene fatto durante la coltivazione quello che è necessario per poter mangiare proprio dei prodotti anche sicuri abbiamo detto primo argomento scelta delle piantine la scelta delle piantine è un momento chiave nell'impostazione del nostro orto questo perché da piantina a piantina ci sono differenze tali per cui queste possono influenzare in maniera anche decisiva certe volte il risultato proprio della coltivazione un aspetto che difficilmente è misurabile quando andiamo ad acquistare la piantina è il valore della varietà ci sono altri parametri che vedremo tra pochissimo sono invece abbastanza semplici da inquadrare anche per il neofita invece il discorso della varietà spesso sfugge come importanza diciamo la varietà è particolarmente importante perché quando noi andiamo ad acquistare una piantina magari stiamo cercando il cuor di bue il pomodoro cuor di bue normalmente non sappiamo che di cuor di bue il mercato ce ne può offrire 50 varietà e quindi il vivaio che ha prodotto quella piantina può fare diverse scelte per darci una varietà di cuor di bue che può essere una scelta legata alla comodità anche in qualche caso al costo del seme cioè uno può dire prendo quello che mi costa un po' meno in qualche altro caso può essere anche andare a valutare altri fattori come può essere la qualità anche gustativa del prodotto finale che per voi è molto importante come la produzione o la sanità della pianta stessa vi faccio un piccolo esempio che vi dà proprio un'idea penso abbastanza concreta dell'importanza della varietà e si vede molto bene ad esempio nello zucchino nello zucchino negli ultimi decenni sono state messe a disposizione dei produttori delle varietà con la resistenza genetica alla malattia più grave che può colpire lo zucchino che è la virosi sapete che lo zucchino spesso è colpito dal mal bianco però in realtà la malattia che è più penalizzante per lo zucchino stesso è la virosi la virosi è quella malattia che ora vi faccio vedere un po' più nel dettaglio qui vedete sulla sinistra una pianta resistente a virosi sulla destra una pianta non resistente a virosi nello stesso campo nelle stesse condizioni di coltivazione abbiamo piante che dopo 30 40 giorni dal trapianto cioè quando iniziano a produrre finiscono direttamente fanno magari un frutto due poi dopo si interrompono queste sono varietà non resistenti alle virosi abbiamo varietà invece che per tre mesi a volte tre mesi e mezzo continuano la produzione nelle stesse identiche condizioni di stress queste varietà sono resistenti a virosi il virus diciamo si può manifestare in maniera diversa molto spesso ha questa presenza di colorazioni differenti sulla pagina fogliare foglie che a volte si restringono si riallargano comunque si vedono delle conformazioni anomali della foglia poi anche del frutto che portano dicevamo in pochissimo tempo a terminare la produzione chiaramente le varietà resistenti a virosi hanno un costo seme molto più elevato sono varietà che non troveremo mai ad esempio nelle bustine che possiamo comprare di zucchino noi quando andiamo a scegliere leggiamo zucchino scuro vediamo una bellissima foto normalmente non è segnalato se la varietà è resistente o meno a virosi è l'aspetto primario considerate che una dieta come orto mio lo potete vedere poi nelle guide ai trapianti che trovate alla vostra destra ha praticamente il 90 per cento delle varietà utilizzate nella propria gamma che sono resistenti geneticamente alle virosi quindi che vi danno questa sicurezza di poter coltivare tranquillamente senza diciamo il pericolo peggiore che possa colpirle queste varietà diciamo non il 90 per cento ma l'80 per cento sono resistenti anche al mal bianco ma bianco che sapete l'altro grosso problema dello zucchino resistenza va bianco precisiamo non significa che la pianta è esente dal mal bianco vuol dire che lo prende in maniera più tardiva e diciamo riesce a difendersi per più tempo quindi ci dà il tempo anche a noi di poterci attrezzare per una difesa preventiva o anche curativa anche semplicemente con prodotti biologici come lo zolfo lo stesso discorso si potrebbe fare per invece la qualità dicevamo prima un cuore di bue posso quest'anno aver comprato in un vivaio o aver seminato i miei semi e aver fatto io le piantine magari mi accorgo che da un anno all'altro cambia molto la qualità in qualche caso è vero può essere legato a fattori ambientali o di terreno molto più spesso è legato al discorso che abbiamo cambiato varietà semplicemente la varietà che era molto buona non è solo che quest'anno il cuore di bue non è venuto buono è che proprio varietà diverse hanno anche una qualità molto differente in termini proprio gustativi ora invece andiamo a vedere quei parametri che noi tranquillamente possiamo misurare sul primo caso quindi sulla varietà dobbiamo fidarci un po' del vivaio che ce lo propone invece quando entriamo a guardare la qualità che invece è misurabile con gli occhi e con le mani andiamo a vedere caratteristiche come quella della freschezza della piantina e freschezza che è garantita presso valle dei fiori perché le consegne di orto mio sono molto frequenti diverse volte alla settimana arrivano le piante presso il garden e quindi questo già è una buona garanzia però volendo diciamo stare dalla parte del sicuro andiamo a vedere gli elementi che ci aiutano a capire che la pianta è fresca ed è giovane un elemento molto importante da valutare è quella dell'apparato radicale un apparato radicale vedete che deve fasciare bene il pane di terra tenerlo bene insieme allo stesso tempo non avere zone imbrunite o ingiallite questo è chiaramente un apparato radicale fresco giovane è una pianta che sicuramente in saluta la radice ci dice molto della salute della pianta finché ancora in piantina possiamo vederlo chiaramente quando avremo piantata in terra non potremo più vederlo però anche quando sarà in terra sarà la radice essere molto importante lo vedremo dopo per il risultato e il successo della produzione altri elementi che possiamo misurare sono la robustezza delle piante le piante devono essere il più possibile robuste quindi giovani e robuste allo stesso momento se avessimo davanti a noi solo le piantine di destra magari ci sarebbe difficile dire sono belle o non sono belle sono robuste o meno se abbiamo un confronto ci è evidente che a parità di varietà la varietà diciamo le piantine di sinistra sono chiaramente più robuste sono piantine che messe a dimora sicuramente avrebbero molto meno stress rispetto alle alle piantine che troviamo sulla destra quindi anche diciamo la robustezza della piantina può avere un'influenza sul risultato finale questo perché lo stress superiore che subisce al momento del trappianto potrebbe ripercuotersi addirittura sulla produzione finale della pianta stessa quindi evitiamo le piantine troppo deboli potremmo avere condizioni anche di questo genere ovvero portiamo a casa una pianta di zucchino già con gli zucchini attaccati ci dicono che il problema più grosso è quando arrivano le virosi di zucchine non li vediamo più intanto se li portiamo già a casa con gli zucchini in realtà diciamo che la presenza di frutti sulla pianta è sempre un fattore da evitare questo perché è indice del fatto che la pianta ha già ricevuto un input che gli dice sei vecchia stai per morire riproduciti se vediamo quindi questa situazione una piantina sappiamo che è meglio andare su una pianta diversa evitiamo la presenza quindi di frutti perché sarà molto difficile una volta che abbiamo messo a dimora una piantina in queste condizioni convincere invece che la vita è bella e che ce la può fare che può comunque darci una buona produzione quindi attenzione questo è un indicatore diciamo anche molto semplice da osservare consideriamo anche che si può possiamo avere la situazione tale per cui specialmente sui trapianti primaverili andiamo a mettere a dimora una pianta di zucchino inizia la produzione comunque presto perché magari abbiamo sbalzi termici piuttosto che 4-5 giorni freddi la pianta non è ancora ben formata e comincia a produrre dei frutti è sempre il caso in quelle condizioni di eliminare i primi frutti prodotti finché la pianta non è ben formata succede abbastanza frequentemente di sentire persone che si lamentano perché i frutti non si sviluppano non crescono normalmente succede nei periodi piovosi o freschi dell'inizio della primavera o anche dell'inizio dell'estate se c'è un periodo anomalo e la pianta non è ancora ben formata facilmente può andare incontro a uno sviluppo stentato del frutto spesso è un vantaggio perché il fatto che si blocchi noi lo sappiamo prima e andremo comunque anche se si sviluppa regolarmente a pulire la pianta dai primi frutti finché la pianta non è ben formata però diciamo in qualche caso è anche una difesa della pianta perché se sviluppasse completamente quei frutti andrebbe a togliere troppe risorse che le servono invece per poi avere una produzione importante durante tutto il ciclo produttivo. Andiamo a vedere ora un altro aspetto in realtà molto importante che è il fatto che le piantine devono assolutamente essere sane e delle piantine sane all'origine ci danno molte più garanzie di poter riuscire a coltivare con metodi naturali o biologici durante il periodo di coltivazione. Nelle serre le piantine giocoforza sono tenute molto fitte in diverse fasi dopo vedremo un filmato che vi dà un po' un'idea di come si costruisce una piantina e in questo ambiente chiaramente le condizioni sono ottimali per le piantine sono ottimali anche per alcuni parassiti e per alcuni funghi che le possono colpire quindi è molto importante effettuare una difesa apposita finché le piante sono in serra. È fondamentale che le piantine arrivino a voi sane e che magari siano protette come lo sono anche per 4-5 giorni una volta messa a dimora nel campo. In questa maniera sarà molto più semplice riuscire poi a coltivarle con metodi più possibile naturali e quindi limitando al massimo l'utilizzo di prodotti diciamo esterni alla coltivazione. Comunque possiamo trovarci in ogni caso con situazioni di questo genere quindi presenza di insetti sulle foglie sono sempre da tenere in grande considerazione per eliminarli subito. Una pianta che parte già col freno a mano di insetti che stanno succhiando la linfa appena la mettiamo a dimora chiaramente può avere grossi problemi e difficilmente arriverà bene in produzione quindi subito in quei casi interveniamo per eliminare gli insetti anche con tanti prodotti ci sono oggi prodotti veramente a bassissima tossicità che già dopo tre giorni che li abbiamo fatti non sono più ritrovabili nel prodotto. Possiamo avere la presenza di macchie come vedete invece sulla destra in questo caso abbiamo una delle malattie più gravi della lattuga la premia che si presenta normalmente come delle chiazze con una consistenza farinosa o anche macchie scure vedete in un periodo più tardivo dell'attacco anche in questo caso facciamoci caso cioè se ci sono situazioni anomale di colorazioni con presenza di muffe non dovrebbero esserci. Attenzione però a non spaventarci per tutti i tipi di macchie che troviamo sulle nostre piantine se facciamo un giro qui nel garden vedremo molto semplicemente che ci sono ad esempio tra gli zucchini molte differenze a livello cromatico tra varietà e varietà quindi macchie grigie sulle foglie di zucchino sono assolutamente normali per alcune varietà e le differenziano in questa fase da varietà diciamo da altre varietà di zucchino. Possiamo avere anche condizioni particolari come queste dove molte volte non si sa bene come muoversi cioè qual è la cosa giusta da fare quindi caso di piante con foglie questa è una pianta molto bella con una foglia molto sviluppata qui abbiamo un apparato radicale ancora evidentemente sano è bello bianco come ho detto prima ma particolarmente compatto. Bene andiamo a vedere come comportarci in questi casi se abbiamo foglie di grandi dimensioni e in questo caso siamo su un trapianto estivo abbiamo dei porri è bene cercare di ridurre l'apparato fogliare questo nel periodo caldo aiuta a ridurre considerevolmente la disidratazione della pianta più è grande la pagina fogliare più sarà lo stress che subisce la pianta col caldo o col vento perché perderà molta acqua dall'apparato fogliare e appena trapiantata la pianta non è ancora in grado di assimilare tutta l'acqua che noi andremo ad apportare col legazione in realtà vive dell'umidità che ha nel suo pane di terra perché le radici quello riescono ad assimilare conseguentemente un'operazione come quella che facciamo adesso nelle lattughe poi è ancora più consigliabile perché la foglia è più acquosa più tenera e quindi tende a disidratarsi più facilmente prendo l'arma poi dopo l'operazione è questa siamo andati a eliminare praticamente la metà dell'apparato fogliare anche in questi giorni è un vantaggio perché nel periodo diciamo tardo invernale o di inizio primavera facilmente ci sono dei periodi di burrasca che porterebbero queste foglie ad attaccarsi al suolo come sapete una foglia attaccata al suolo chiaramente non può fare efficientemente la fotosintesi clorofiliana e quindi diventa più un freno a mano che qua per la pianta piuttosto che un qualcosa che l'aiuta quindi mettere la pianta in queste condizioni anche se ci potrà sembrare un po' cruento in realtà dalla pianta stessa dei grandi vantaggi in particolare nel periodo estivo bene andiamo a vedere invece il nostro porro qui vi ho messo proprio il confronto vedete sulla sinistra due file di porri dove abbiamo effettuato la cimatura delle foglie vedete invece le piante dove la cimatura non è stata effettuata capite che già solo con una giornata molto ventosa al trapianto quale stress differente possono subire le piante di destra abbiamo visto prima anche una foto dove erano presenti queste radici che vedete ora molto compatte se ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere è importante non andare a mettere a dimora la pianta così come sta questo è diciamo una delle cause più frequenti che ci portano alla fine della stagione di coltivazione quando magari andiamo a estrarre le nostre piante di pomodoro per mettere nella concimaia e ci accorgiamo che magari l'apparato radicale è più o meno come quando l'avevamo piantato ci sarà capitato con alcune piante che non hanno diramato le radici nel suolo ma sono rimaste più o meno nel pane di terra originario dicevo spesso questo fatto può essere legato al presente un apparato radicale compatto al momento del trapianto quindi molto semplicemente andremo a sfoltire l'apparato radicale nella zona più esterna lasciandolo in questo modo non si deve mai rompere il pane di terra mai nelle piantine in vasetto mai nelle piantine in cubetto così si acquista e così deve essere trapiantato abbiamo detto se l'apparato radicale particolarmente compatto come in questo caso può essere la situazione ad esempio delle piantine in estate è abbastanza classico dove abbiamo nelle piantine in estate in realtà due piante che ne vanno a costruire una sola quella che dà l'apparato radicale alla piantina è una pianta che ha un apparato radicale di per sé molto forte molto vigoroso per cui in diversi casi potremmo trovarci in queste situazioni poi è vero che la pianta in estate normalmente reagisce comunque perché anche se non sviluppa eccessivamente l'apparato radicale ci salta sempre fuori però se facciamo anche questa operazione avremo risultati ancora migliori perché l'apparato radicale potrà veramente penetrare a fondo nel suolo. Bene finito un po' l'argomento piantine passiamo a parlare del pomodoro pomodoro che ci siamo permessi di eleggere re dell'orto perché diciamo è sicuramente la specie più amata dagli orticoltori vuoi per la facilità di coltivazione vuoi perché i frutti sono veramente molto buoni comunque è sicuramente la varietà che attira più interesse. Nel tempo diciamo da quando dalla scoperta dell'America è stato un po' esportato in tutte le parti del mondo il pomodoro è stato coltivato e la ricerca ci ha offerto veramente un numero di varietà e un numero di tipologie incredibili qui potete vedere una foto che sembra quasi che un pittore si sia divertito a colorare dei disegni di pomodoro in realtà queste sono solo una piccola parte delle tipologie che il mercato oggi ci offre. Ecco una cosa veramente importante è andare l'abbiamo un po' accennato prima a capire quali di queste varietà sono poi effettivamente interessanti per noi come coltivatori amatoriali cioè quelle varietà che sono abbastanza semplici da coltivare che ci danno una buona produzione senza ammalarsi più di tanto e che poi al fine siano anche buone da mangiare. In questo dicevamo Orto Mio fa un grosso lavoro nel selezionare le varietà affinché arrivino a voi solo le varietà più semplici da coltivare e quelle che alla fine diano effettivamente un prodotto gradevole al gusto. Abbiamo quest'anno anche fatto nella guida ai trapianti che trovate sul pomodoro una distinzione per aiutarvi a scegliere le varietà perché è veramente l'offerta di varietà anche nella guida ai trapianti di Orto Mio è veramente vasta. Avete una grande possibilità di scelta però per appunto darvi un piccolo aiuto abbiamo diviso le varietà considerando alcune caratteristiche che le raggruppano. Quindi abbiamo fatto un primo insieme di varietà che abbiamo chiamato dei classici sodi e gustosi. La caratteristica che li accomuna è quella di avere una buona consistenza della polpa che ci permette di arrivare al momento della raccolta quando i pomodori sono pronti e potere anche aspettare un giorno due giorni col pomodoro pronto maturo sulla pianta senza essere costretti a raccogliere subito perché altrimenti diventa troppo morbido. Le varietà sono quelle che potreste trovare anche sui banchi di vendita del fruttivendolo. Qui abbiamo cercato di mettere le varietà che oltre a essere consistenti e belle da vedere più che altro siano molto buone da mangiare e abbiamo detto sane e produttive. Quindi le tipologie vedete sono le tonde, i costoluti, san marzano, ciliegini, datterini, le tipologie diciamo classiche. Sono varietà chiaramente che oltre a conservarsi bene in campo anche una volta raccolte ci danno una diciamo una buona forbice di utilizzazione perché possiamo tenerle in frigo senza modificare troppo le caratteristiche anche per 3, 5, 7 giorni a seconda della varietà, alcune addirittura anche di più. Queste varietà si distinguono dal secondo gruppo e della seconda linea. Qui venne ho messe solo una piccola parte che abbiamo chiamato degli antichi sapori. Queste sono tutte quelle varietà che erano state un po' dimenticate per questa proprietà che hanno di essere sì buone, gustose, succose ma ahimè hanno una tenuta abbastanza limitata. Quindi diventano morbidi molto rapidamente. Sono prodotti che per questo sono stati un po' scartati dal mercato. Quindi anche qui c'è stato il lavoro del vivaio nell'andare a ripescare tipologie anche di diverse zone d'Italia che però erano molto molto apprezzate per il gusto. Quindi queste sono varietà che vanno molto bene abbinate a quelle che abbiamo visto prima però hanno sappiamo una tenuta inferiore. Quindi quando sono pronte o quasi pronte sulla pianta vanno raccolte, in frigo si potranno tenere un giorno, due giorni al massimo. Meglio consumarle presto. L'ideale e l'input che vogliamo dare è anche quello di dire nell'orto non mettiamo solo un tipo di prodotti. Se piantiamo 50 piante della linea antichi sapori poi dopo rischiamo quando sono tutti pronti di avere difficoltà a gestire la raccolta e essere costretti magari a far la conserva. Viceversa se differenziamo le tipologie potremo anche gestire molto meglio la raccolta e anche con una buona scalarità. Per finire adesso intanto il discorso varietale abbiamo fatto anche una terza linea che abbiamo chiamato specialità salutistiche e super gusto. Qui abbiamo radunato varietà con caratteristiche in realtà abbastanza differenti. Quindi sono varietà buonissime da mangiare, molte proprio create anche molto recentemente. Tra queste possiamo vedere il pomodoro nero che è veramente stato creato negli ultimi anni e che sapete nei mesi scorsi è stato molto sui giornali, televisioni, avete sentito parlare del pomodoro nero un po'. Quindi per chi non ne ha sentito parlare è un prodotto che gli studiosi, gli scienziati si dicono avere un alto contenuto in antiossidanti, in antociani, queste sostanze che ci mantengono giovanissimi, attenzione perché qui il rischio è che ci tocchi di cambiare le foto nei documenti. Quindi non esageriamo con le quantità, utilizziamolo perché più giovani ci vogliamo rimanere tutti però con moderazione. Adesso a parte gli scherzi ci sono ricerche recenti che ci dicono ad esempio che gli antiossidanti che sono contenuti nel pomodoro nero sono gli stessi presenti ad esempio nel mirtillo. C'è molta ricerca sul mirtillo e si sa quanto le proprietà di questo tipo di antiossidanti diano beneficio al corpo umano. Che cos'è l'innesto? Prima l'abbiamo accennato. L'innesto non è altro che è una pratica che viene fatta per conferire a una varietà che ha ottime caratteristiche qualitative e produttive ma un apparato radicale debole per dargli una buona forza anche nell'apparato radicale. Quindi si prende una varietà che ha pessime caratteristiche spesso qualitative ma un ottimo apparato radicale con grandi resistenze alle malattie e grande vigoria appunto nell'apparato radicale e la si unisce finché è ancora molto giovane a quest'altra varietà invece che ha ottime caratteristiche produttive. Vedete nel dettaglio come si presenta il punto di innesto e quando è il caso di utilizzare piante innestate nel nostro orto? Diciamo che le piante innestate sono da utilizzare soprattutto se abbiamo difficoltà a fare rotazioni nel nostro orto e abbiamo avuto problematiche sanitarie negli anni precedenti a livello radicale. Quando vediamo una pianta che muore nel giro di pochi giorni e collassa quindi praticamente i frutti maturano tutti insieme le foglie diventano gialle possiamo supporre di aver avuto un problema radicale in quei casi non bisogna mai ritornare col pomodoro nella stessa posizione del campo. Tutti voi comprate le piantine dell'orto in questo cassetta di plastica in qualsiasi parte. Quelle di orto mio è questo. Quando andate nei campi che piantano l'insalata che poi non viene curata hanno questa zolla che è altro che la torba di quattro di queste schiacciate in un uno. Mette il seme e viene appoggiato dentro. In questo modo la radice viene tutta attaccata sotto. Quando viene messa sul terreno non c'è bisogno di mettere la terra. Attacca. Ecco perché nei campi fanno le insalate, fanno tutto. Occorre la qualità e il cubetto. Noi abbiamo fatto le macchine per fare il cubetto piccolo. Abbiamo fatto tutto questo. Vedete che qui si rompe? Questa è la qualità di insalata e quasi tutte le insalate vengono fatte in cubetto. Tutti in cubetto perché le insalate è molto veloce. In 30 giorni quando la piantate è già pronta da mangiare. Se la mettiamo in questo peperone qui è già 20 giorni che è dentro un mese. Se mettiamo l'insalata che qui impiega 10-12 giorni non fa tempo a fare le radici. Solo col cubetto perché sentite come è duro e questo come è tenero. Vedete che è... Ecco questa è la caratteristica di orto mio che non ha nessuno altro. Bene, dicevamo appunto tra i potenziali problemi col clima caldo vedete c'è qualche malattia fungina e batterica in realtà non così grave o meglio quella batteriosi è abbastanza grave ma si verifica abbastanza raramente. Tra i parassiti invece c'è qualche animaletto che va prevenuto come sono gli acari. Gli acari sono i parassiti per eccellenza del clima caldo quindi dell'estate. Tra gli squilibri chiaramente il macium apicale è quello che un po' tutti abbiamo in casa quando abbiamo delle varietà di tipologia san marzano. Abbiamo detto pericolo pubblico numero uno col caldo e secco, ragnetto rosso e dei riofide. Sono due acari quindi sono due parassiti che lavorano molto bene e si riproducono molto rapidamente abbiamo detto col clima caldo. Qui veramente quando le temperature sono oltre i 25 gradi la velocità di riproduzione è di una rapidità impressionante. Quindi qui è particolarmente importante prevenire anche qui l'attacco. La prevenzione la faremo considerando quelli che sono i punti deboli del parassita ovvero sia gli acari arrivano sulla nostra pianta via terra, non saltano, non volano, possono arrivare solo camminando. Quindi facendo tesoro di questa conoscenza innanzitutto cercheremo di eliminare il più possibile le vie di accesso alla nostra pianta lasciando solo quello che non possiamo eliminare chiaramente il fusto e il tutore. Quindi vedete da sinistra eliminiamo le foglie che toccano terra, l'unica via d'accesso possibile rimarrà il tutore. A quel punto sarà molto semplice mettere un nastro biadesivo attaccato a tutore e fusto della pianta. Esistono prodotti per le piante arboree ma anche per le piante orticole che possono essere applicati, questa operazione sarà importante farla prima che arrivi il caldo. Quindi se lo facciamo presto quando anche la pianta è già stata trapiantata da 15-20 giorni ancora meglio, correremo ancora meno rischi. Però comunque normalmente sappiamo che il regneto rosso prima della metà di maggio normalmente difficilmente attacca la produzione. Quindi questo è un primo sistema che possiamo usare molto efficace per prevenire il regneto rosso. Chiaramente il regneto arriverà, proverà ad arrampicare sulla nostra pianta e vivrà delle brutte esperienze. Per nostra conoscenza è importante anche sapere che un altro prodotto particolarmente efficace nel dissuadere gli acari dal venire sulle nostre piante è lo zolfo. Lo zolfo utilizzato con costanza è particolarmente fastidioso per gli acari. Quindi iniziando già, magari se abbiamo la facciamatura potremo già subito dopo il trapianto mettere dello zolfo ventilato sulla facciamatura. È efficace anche lo zolfo bagnabile in realtà, però diciamo che la permanenza sulla facciamatura, in questo caso dello zolfo ventilato, è normalmente un po' superiore ed è anche più repellente. Altrimenti potremo comunque darlo nelle zone basali, inizialmente, del fusto della pianta, proprio per avere questa caratteristica di repellenza. Se abbiamo un attacco già in atto, lo zolfo potrà essere comunque utilizzato perché ha anche un effetto di sterilizzazione delle uova e di rallentare fortemente lo sviluppo e la riproduzione degli acari. Abbiamo visto in precedenza un'altra operazione che limita gli acari, che abbiamo detto che è l'irrigazione della chioma nei periodi caldi. Quindi ore calde del giorno e periodi caldi e secchi, possiamo anche ogni tanto durante la settimana dare una bella lavata alla pianta, abbiamo detto non nelle ore serali, ma nelle ore calde. Questo diciamo abbatterà una buona parte della popolazione di acari che potrebbe essere presente sulla pianta. Bene, vediamo ora l'insetto un pochino più fastidioso nel periodo estivo, in particolare normalmente in tarda estate, la cimice che nel periodo invernale ci viene a trovare in casa, sulle tende sappiamo è l'animale domestico di casa, un po' di tutti, poi in realtà nel periodo estivo ci viene a trovare anche nell'orto e se ci scappano gli adulti, normalmente ci capita di vedere qualche adulto, in quel momento sarebbe il caso, se vogliamo fare il massimo della prevenzione, di intervenire. Anche qua ci sono prodotti a tossicità praticamente quasi zero, che possono essere applicati e se riusciamo a beccare gli adulti quando siamo in questa fase qua, chiaramente dopo non avremo problema delle forme giovanili, in realtà la cimice si mimetizza e non è che arriva lì sempre quando ci siamo noi, quindi può arrivare, fare le sue uova che possiamo vedere in alto sulla sinistra, che a volte ci capita di vedere anche noi sulle piante di pomodoro, solo che romanticamente speriamo che si tratti di chissà quale insetto benefico per l'orto e quindi pensando a scenari da National Geographic, poi dopo ci troviamo qualche volta invece con gli insettini che quando sono schiusi, le forme giovanili, fanno già un danno esagerato, cioè già appena escono dalle uova, in poche ore arrivano sui frutti e cominciano a succhiare la linfa, riducendoli molto male da subito, perché in realtà non è tanto quello che assimilano dal frutto quanto la saliva che immettono per digerire i succhi della pianta che è particolarmente tossico per il frutto, quindi i frutti diventano subito inutilizzabili. Abbiamo detto la cimice non è un insetto difficile da combattere, possiamo utilizzare anche la lotta biologica fai da te, quando troviamo le uova, stacchiamo la fogliolina, se ci fa schifo schiacciarle con le mani, la lasciamo andare in terra e poi la festiamo con i piedini. Bene, vediamo ora quello che forse è il problema più sentito nel pomodoro nel periodo estivo, specialmente se abbiamo varietà, abbiamo detto San Marzano, ma in questo caso vedete un bellissimo cuore di bue che era bellissimo fino a qualche giorno prima, poi dopo ha vissuto delle brutte esperienze. Mentre sulla destra vediamo il caso, un'altra problematica legata al clima estivo, che è quella della scottatura dei frutti. Come la scottatura dei frutti può essere un problema quando abbiamo varietà molto scoperte o quando noi stessi abbiamo effettuato una potatura delle foglie eccessive. In questi casi può essere sufficiente anche andare a coprire i grappoli troppo scoperti anche con un pezzettino di tessuto non tessuto, in maniera molto pratica si riesce a evitare il problema. Il marciugo apicale invece è una cosa diversa. Innanzitutto, data la grande frequenza con cui si presenta, ci viene da pensare che sia una malattia. In realtà non è una malattia, non è altro che uno squilibrio idrico nella pianta. Squilibrio idrico che fa sì che il calcio che dovrebbe essere convogliato dalla pianta nelle foglie e nei frutti, in realtà nei momenti di forte stress idrico la pianta deve fare una scelta e decide di inviare questo calcio alle foglie per la sua sopravvivenza. Questo fa sì che nelle varietà allungate, dove il calcio deve fare anche un percorso un po' più lungo per riuscire a irrorare tutto il frutto, si manifesti questo stress idrico con questa manifestazione nota come marciugo apicale o culo nero. Insomma, ogni zona ha un nome diverso per questa problematica. Allora, affrontare questo tipo di problema in modo preventivo implica un insieme di operazioni che però sono operazioni che dovremmo fare normalmente nell'orto, che vanno dal favorire una buona radicazione della pianta, prima ne abbiamo visto un aspetto, quindi vuol dire in un certo momento ad esempio stressarla un pochino, stimolarla ad andare in profondità con l'apparato radicale, ma prima di quel momento lì vuol dire aver fatto le operazioni di lavorazione del terreno nel modo giusto, e vedremo presto che cosa significa, avendo rispettato il terreno e avendo utilizzato in abbondanza sostanza organica durante l'anno. Questi sono tutti aspetti che contribuiscono notevolmente a formare un apparato radicale sufficientemente sviluppato. Un altro fatto assolutamente da non trascurare, anche un fatto primario, l'abbiamo già detto prima, è eliminare le crepe da secco. Cioè, fare quell'operazione di sarchiatura con successiva irrigazione copiosa, se sta arrivando un periodo di caldo molto intenso, è un'altra cosa da cui non si può prescindere. Cioè, quella spesso è la prima causa del problema, cioè non abbiamo dato abbastanza acqua quando la pianta aveva bisogno in realtà di veramente di un volume di acqua molto superiore al solito. Quindi, chiaramente legato a questo, irrigare bene in estate, un altro accorgimento che ci può aiutare molto è aiutarsi con la concimazione, col calcio per via fogliare. Quindi, abbiamo detto che è uno squilibrio che coinvolge in maniera decisiva anche il calcio, noi il calcio però possiamo apportarlo per via fogliare. Se lo andassimo a portare per via radicale non avrebbe la stessa efficacia. La traslocazione è molto più lenta. Se abbiamo molte piante di varietà san marzano, da quando si sono formati i frutti, cerchiamo settimanalmente di andare a fare un trattamento fogliare con il calcio per con semplicemente un trattamento spray. Stavamo un pochino affrontando il prima delle lavorazioni, cioè quando innanzitutto è bene non lavorare. Per questo è un elemento veramente da considerare. Ovvero, quando il terreno è troppo bagnato è sempre bene non entrarci, non solo non lavorare, ma possibilmente anche non entrarci. Quindi gestire il nostro orto utilizzando anche dei passaggi, dei camminamenti dove noi possiamo entrare anche quando il terreno è bagnato, perché chiaramente possiamo avere delle colture da raccogliere, considerando appunto che non possiamo calpestare tutta la superficie del nostro orto perché compatteremo la superficie e renderemo difficile successivamente il lavoro di radicazione della pianta. E non solo, diciamo che calpestando il terreno quando è bagnato ci va a fare un altro danno, che è quello di ridurre notevolmente gli spazi che sono presenti tra particelle e particella nel terreno, all'interno dei quali è contenuta aria e ossigeno, che sono indispensabili e per la radice, per penetrare in maniera ottimale nel terreno, e per la radice ancora, perché ha bisogno anche di ossigeno per poter vivere, ma anche per i microorganismi del terreno, di cui abbiamo già accennato precedentemente, e che sono veramente fondamentali per il successo dell'orto. Quindi non entriamo nell'orto a calpestare né a lavorare quando è troppo bagnato, ma quando, quali sono gli elementi che ci dicono se l'orto, il terreno nell'orto è ancora troppo bagnato o l'umidità è già giusta per poter lavorarlo. Molto semplicemente una prova che possiamo fare è quella dello strumento. Se stiamo, dobbiamo fare la vangatura, affondiamo la vanga nel suolo e vediamo se estraendola non rimane terreno attaccato allo strumento stesso, questo significa che è già il momento buono per lavorare la terra. Se viceversa lo strumento rimane col terreno attaccato, vuol dire che è ancora presto. Questo è un sistema molto semplice per decidere se intervenire o meno. Bene, detto questo andiamo un po' nel dettaglio delle singole lavorazioni. La preparazione di fondo, abbiamo detto, è una lavorazione che viene fatta specialmente nei terreni argillosi nel periodo autunnale ed è fatta normalmente con l'operazione della vangatura. La lavorazione pre-trapianto viene fatta con zappatura o fresatura e rastrellatura. È un'operazione che si fa normalmente un paio di settimane prima del trapianto. Poi dopo abbiamo le operazioni post-trapianto con, abbiamo visto prima, sarchiatura e rincalzatura. Entrando nel dettaglio, la lavorazione di fondo autunno-invernale è quella lavorazione che serve a preparare la terra prima dell'inverno. Quindi è una lavorazione indispensabile nei terreni argillosi ed è una lavorazione che, abbiamo detto, si fa con la vangatura. Vangatura che serve a rendere più soffice il terreno, serve a arieggiarlo e anche a favorire il drenaggio. Quindi a far sì che l'acqua penetri nel suolo con maggiore facilità. È un'operazione particolarmente utile anche perché ci consente di dare sostanza organica al nostro terreno. Non sottovalutiamo mai l'importanza della sostanza organica perché è praticamente l'assicurazione del nostro orto. È quella che fa sì che i microrganismi possano mantenersi in salute, che la nostra pianta abbia sempre una risorsa a cui attingere nei momenti anche difficili della stagione. la sostanza organica aiuta quando fa troppo caldo, aiuta quando fa troppo freddo, ad esempio nell'assimilazione di certi elementi nutritivi. Aiuta a mantenere il terreno più umido quando fa caldo e allo stesso tempo evita che ci possano essere problematiche di ristagni idrici anche. Per cui consideriamolo bene. In questo periodo la sostanza organica che andremo a portare è fondamentalmente stallatico e cornunghia. Sono due tipologie diverse e non sono alternative. Possono essere e dovrebbero essere apportate contemporaneamente con la concimazione di fondo. Diciamo la cornunghia ha un'efficacia notevole che si protrae per un periodo molto lungo. quindi agisce lentamente ma rimane per molto tempo nel suolo. Lo stallatico viceversa è comunque un concimo organico che non è certo veloce come azione però è molto più rapido della cornunghia. Vedremo dopo che lo stallatico andrà utilizzato anche in altri momenti e lo vedremo presto. Quindi la vangatura che deve essere effettuata in maniera ottimale cercando di avere alla fine dell'operazione un terreno che deve essere il più possibile anche livellato. Quando abbiamo finito l'operazione della vangatura il terreno possibilmente non deve essere tutto su e giù ma bisogna evitare gli avallamenti perché gli avallamenti poi dopo portano ristagni nessuna pianta dell'orto gradisce i ristagni. Possiamo avere situazioni dove la vangatura in realtà è molto difficile da essere effettuata ad esempio un autunno molto piovoso e un inverno altrettanto piovoso basta che pensiamo all'annata 2013-2014 in teoria tutto l'inverno non si è potuto vangare il terreno era sempre troppo bagnato. Ci possono però essere delle finestre che fanno sì come ad esempio un momento con una gelata anche normale per un inverno con diverse ore durante la notte anche solo a meno 4 o meno 5 può portare il nostro suolo a ghiacciare completamente e quindi una situazione di acquitrino come possiamo vedere qui sulla sinistra potrebbe la mattina successiva essere in realtà in condizioni di poter essere lavorato e potremmo capirlo anche solo camminandoci sopra se il giorno prima non pensavamo neanche di passare vicino a quel terreno il giorno dopo camminiamo sul terreno non ci sporchiamo neanche le scape perché c'è proprio il ghiaccio non si sprofonda questo ci dice che quegli spazi tanti importanti per le piante vengono rispettati c'è il ghiaccio che mantiene le distanze tra le varie particelle nel terreno quindi potremmo decidere anche di intervenire anche se il clima chiaramente non sarà di quelli che ci fanno venire voglia di andare a vangare la terra i più esperti tra di noi sanno bene che l'operazione della vangatura di solito non ci fa patire il freddo quindi alla terza svangata il caldo fa parte di noi quindi non ci viene in mente di guardare il termometro per vedere com'è che fa così freddo quindi possiamo trovarci in questa condizione e avere comunque un'opportunità di lavorare specialmente se abbiamo un orto grande magari siamo anche un po' ansiosi e abbiamo paura di arrivare a primavera senza aver fatto le operazioni di vangatura sappiamo che questa possibilità di solito nell'inverno c'è possiamo trovarci però anche nel periodo estiva col problema opposto ovvero abbiamo finito già da qualche settimana la produzione della lattuga in una in un'aiuola del nostro orto chiaramente la stiamo trascurando perché stiamo coltivando il resto dell'orto decidiamo di piantare i finocchi andiamo a provare a piantare la vanga ci rendiamo conto che non è proprio un'esperienza gradevole ci fa pensare quel terreno lì più al piccone che alla vanga quindi cosa facciamo non disperiamo prendiamo in mano il tubo diamo una bella bagnata alla superficie del terreno dopo 5-7 giorni il terreno a seconda del tipo di terreno che abbiamo il terreno sarà nuovamente lavorabile senza impazzire bene passiamo ora alle operazioni di lavorazione pretrapianto le operazioni diciamo la lavorazione pretrapianto è una lavorazione che viene fatta normalmente sul finire dell'inverno prima di iniziare la produzione diciamo dei primi trapianti di piantine nel nostro orto e che serve ad affinare notevolmente il terreno e appareggiarlo ulteriormente con questa operazione si approfitta per andare ad apportare abbiamo detto nuova sostanza organica ancora stallatico non stanchiamoci di dare sostanza organica ci darà solo risultati migliori nel nostro orto andiamo a vedere nel dettaglio quindi abbiamo detto prima normalmente la zappatura alla quale può seguire la rastrellatura che è necessaria per portare in parte tutti quelli che sono le zolle di dimensione maggiore e poi dopo ci troveremo nella migliore dell'ipotesi con questo terreno molto fine vedete in questo caso il terreno è stato anche baulato è stato fatto un cuscino di terra che è particolarmente utile nei terreni argillosi dove abbiamo il rischio di ristagni può essere estremamente consigliabile ragionare su una superficie proprio baulata bene consideriamo che in questo momento potremmo avere già effettuato quella concimazione organica ma anche minerale perché prima del trapianto si può fare una concimazione anche con sostanza minerale che serve ad arricchire ulteriormente il terreno di quegli elementi fondamentali che potrebbero essere carenti e quindi che possono favorire un sviluppo ottimale della pianta possiamo prendere chimici classici ci sono anche in forma minerale biologica quindi proveniente da risorse naturali non che un prodotto chimico di sintesi dia dei problemi esagerati se gestito in maniera opportuna quindi senza abusarne un po' di concimazione anche chimica non crea disastri nel nostro orto consideriamo però sempre che non possiamo lavorare ben detto solo con la concimazione chimica questo porta a impoverire notevolmente l'orto ed a recare in particolare danno ai microrganismi così importanti di cui abbiamo parlato diverse volte se ci troviamo in situazioni di terreno particolarmente problematiche possiamo addirittura attrezzarci in questo modo con strutture diciamo come questi cassoni a costo estremamente diciamo relativo dove noi potremo andare a decidere che cosa e che tipo di substrato andare ad avere per la coltivazione che non sarà più il terreno magari ingrato che avevamo a disposizione ma potrà essere un po' di quel terreno mescolato a sostanza organica e terrizio di buona qualità allora avremo risultati completamente diversi nel nostro orto semplicemente con una attrezzandoci con questo tipo di strutture questo è particolarmente utile in terreni molto argillosi ma a volte anche in terreni molto sabbiosi e che producono molto poco se abbiamo terreni molto sciolti ma anche solo se le nostre possibilità di ad esempio andare a irrigare l'orto con frequenza non ci sono cioè possiamo magari avere la possibilità solo di andare due o tre volte alla settimana ad esempio nell'orto e quando effettiamo il trapianto questo può essere un grosso limite in questi casi cerchiamo di aiutarci con un profilo adatto quindi vedete qui sono stati fatti dei solchi e noi andremo a trapiantare le piantine anziché sul colmo a valle in questo modo l'umidità potrà essere mantenuta per un periodo molto più prolungato nel suolo semplicemente grazie al profilo che abbiamo dato al terreno stesso siamo arrivati al trapianto per il trapianto è bene avvalersi di questa tecnologia molto avanzata che è costituita da due pali con una corda in mezzo e che è molto utile per cercare di fare un trapianto che segua una linea che somigli a una retta questo per evitare poi dopo di avere difficoltà nelle operazioni di irrigazione di concimazione e di lavorazione del terreno successivo a questo punto potremo fare un solco come vedete qui sulla sinistra che sarà il letto di trapianto delle nostre piante oppure potremo fare delle buche a distanza corretta sulla direttrice data dalla corda qual è la distanza corretta? la distanza corretta è diversa per ogni specie la trovate nelle guide ai trapianti che avete a disposizione e che trovate negli espositori ci sono proprio le distanze più indicate e adatte alle singole specie questo momento può essere utilizzato se non abbiamo fatto precedentemente la concimazione pre-trapianto possiamo in questo momento andarla a effettuare in buca o in questo caso vedete nel solco potremmo apportare sostanza organica quindi in questo caso stallatico sul fondo la sostanza minorale normalmente sarebbe meglio distanziarla dalla radice perché buona parte di sostanza minerale può essere caustica per la radice stessa quindi o se la mettiamo sul fondo dovremo mettere del terreno che la distanzi dalla nostra piantina viceversa possiamo mettere solo la sostanza organica sul fondo vedremo dopo come chiudere come stringere il terreno intorno alla pianta e poi a 5-10 cm di distanza dai fusti andare a fare la concimazione sopra il terreno quel concime poi con l'acqua di irrigazione andrà arrivare a disponibilità in disponibilità delle radici le piantine prima di essere trapiantate devono possibilmente essere irrigate e vediamo come al garden le piante possono essere tenute anche più asciutte anzi in qualche caso è una necessità quindi può essere assolutamente normale arrivare a casa con delle piantine leggermente asciutte non dobbiamo correre il rischio di andare a mettere a dimora delle piante col pane di terra non sufficientemente umido questo perché abbiamo detto che nei primi giorni la pianta dipende dall'umidità che è presente nel pane di terra e di quella si serve per sopravvivere perché i primi giorni sopravvive la pianta di fatto prima di aver buttato fuori le nuove radici quindi abbiamo cubetti che sembrano non proprio bagnati bagnati li mettiamo a bagno in un secchio d'acqua li lasciamo 5 minuti e poi dopo andiamo a stringere nel caso chiaramente non del cubetto ma dell'alveolo vedete andiamo a stringere il contenitore in modo tale che la radice eventualmente si possa staccare dal contenitore stesso e poi potremo estrarla tranquillamente senza reccare nessun danno alla piantina per la messa di mora vedete in questo caso abbiamo una melanzana un'operazione che è molto molto utile è quella dell'utilizzo del terriccio di buona qualità da mettere attorno al pane di terra della pianta questa operazione favorisce notevolmente la radicazione quindi se abbiamo in particolare terreni che sono un po' lenti per la partenza delle piante o se stiamo trapiantando specie che magari per loro conto non è che siano dei fulmini di guerra a radicare diciamo subito nel post trapianto o anche semplicemente se siamo in un periodo molto critico pensiamo ai trapianti di piena estate con i finocchi piuttosto che i radicchi fare una andare a portare terriccio è diciamo un grande beneficio per la pianta non l'ho detto a caso terriccio di buona qualità terricci ci sono di buona qualità e poi dopo ci sono quelli in offerta speciale alla distribuzione che sembra una volta un'offerta in pratica non sempre lo sono noi se vedete qui c'è un terriccio specifico per le piante romantiche abbiamo il terriccio per le fragole abbiamo il terriccio per le insalate abbiamo il terriccio per ogni prodotto perché il terriccio per ogni cultura occorre del concime diverso allora le ditte specializzate fanno dei terricci apposta per i pomodori lo fanno per e così perché si mette dentro un po' di concime dentro e quando prendete un terriccio per i pomodori o un terriccio per le fragole o un terriccio per le piante aromatiche provate prendete un sacchetto da noi e poi prendete mettete la differenza il risultato è abissale questo è quello che vi dice Orlandelli che è da sempre che faccio questo lavoro mio padre è ortolano mio nonno bisnonno perciò è molto importante la qualità ma il terriccio è ancora più importante che la qualità prendiamo in questo caso non guardiamo ai due euro perché si ripagano subito e utilizziamo un prodotto di qualità abbiamo detto lo portiamo vicino al pane di terra a quel punto possiamo portare il terreno fine che avevamo lavorato con la lavorazione per trapianto bene vicino alla base della pianta premiamo con forza non abbiamo paura di fare male le radici della pianta qui il terreno deve andare proprio bene vicino a tutte le radici e a questo punto potremmo irrigare in quantità se abbiamo un terreno irrigilloso e abbiamo fatto la sua brava baulatura non abbiamo paura anche qui di creare problemi in questo momento specialmente se siamo in un periodo con alte temperature dobbiamo avvalerci di irrigazione oltre che per idratare la pianta anche per abbassare la temperatura del suolo che è un altro dei limiti che fa soffrire le nostre piantine subito dopo il trapianto bene ora vediamo un'altra l'utilizzo di un mezzo tecnico che ci può dare una grossa mano in questo momento che è l'utilizzo del tessuto non tessuto tessuto non tessuto e lo conoscete non è non è come può magari sembrare un telo di plastica ma è una praticamente un telo che lascia passare umidità e lascia anche passare la luce però creando un ambiente che è di elevata luminosità ma non di ma dove la luce non è così battente da stressare la pianta abbiamo anche il vantaggio della prevenzione di molti insetti che chiaramente con questa protezione esterna non possono attaccare le nostre culture consideriamo che il tessuto non tessuto non va lasciato sulla pianta per tutto il ciclo di coltivazione ma va tolto a seconda della tipologia di pianta che abbiamo nel nostro orto dopo dieci giorni due settimane se abbiamo una pianta da foglia quindi lattughe radicchi vietola sono sufficienti dai dieci e quindici giorni per avere già un attecchimento eccellente se abbiamo invece specie da frutto possiamo lasciarla anche per tre quattro settimane normalmente tre settimane sono sufficienti per peperone melanzana e anche il pomodoro una settimana in più può essere utile per anguria e melone questa tecnica veramente anche in questo caso provate per rendervi conto della differenza lasciate qualche pianta fuori dal tessuto non tessuto piantata allo stesso giorno e le altre le mettete sotto vi garantisco che molto facilmente dopo andrete avanti su tutti e tre pianti utilizzare questo strumento per avvantaggiarvi notevolmente nella coltivazione se usate la plastica al posto del tessuto non tessuto succede che di giorno va a riscaldarsi oppure se chiudete un oleandro o un'altra pianta con la plastica di giorno fa condensa e di notte quando va il freddo va a gelare col tessuto non tessuto come è questa proprietà che lascia passare l'aria l'umidità non rimane dentro vuol dire il doppio effetto uno che se fa il freddo d'inverno non gela in altro che non si scalda più di tot se usiamo d'estate e poi fa questa temperatura questa piccola ombra che ed è meglio perciò la plastica è ormai è stata abolita per queste piccole solo nei miloni la mettono perché devono farle crescere velocemente però quando comincia il caldo vanno a fare dei tagli una nota se si decide di utilizzare il tessuto o non tessuto senza gli archetti come sarebbe possibile effettivamente ad esempio per le piante da foglia quindi appoggiandolo semplicemente si deve considerare che in caso di stagione molto piovosa va posto lateralmente quindi va scostato dalla coltivazione e poi dopo normalmente quando arriva diciamo la pioggia e piove due o tre giorni normalmente non c'è neanche più bisogno perché sappiamo bene come col clima poi più fresco le piante partono alla grande non c'è più bisogno neanche del tessuto però viceversa sulle piante da foglia si rischia che possano insorgere dei marciumi che poi possono portarsi avanti per tutta la coltivazione bene detto questo vediamo la lavorazione post-trapianto la accenniamo che se ne abbiamo già parlato tanto prima e qui facciamo una piccola aggiunta se non abbiamo potuto fare in maniera ottimale le lavorazioni pre-trapianto quindi abbiamo detto ci potremmo trovare in una condizione anche di non riuscire a fare la lavorazione di fondo e anche di avere grosse difficoltà a fare una lavorazione pre-trapianto in teoria se continua sempre a piovere noi nel caso limite potremo arrivare a trapiantare con la nostra palettina sul terreno non lavorato ok piuttosto che lavorare il terreno bagnato dovremo arrivare a quella situazione limite lì in quel caso questa lavorazione diventerà un aspetto assolutamente chiave cioè dovremo recuperare successivamente andando a fare tassativamente la sarchiatura ogni dieci giorni e apportando anche almeno ogni due settimane una concimazione che permetta di aiutare quella pianta che sicuramente non avrà le condizioni ottimali di lavorazione perché non gliele abbiamo potute fare la mia presentazione è finita non prima di avervi ricordato che questa bella esposizione che ha già fatto il signor Orlandelli ci ricorda che nel nostro orto possiamo coltivare il pomodoro come abbiamo sentito stasera ma ci sono tanti prodotti che in realtà possiamo coltivare tutti questi prodotti possono essere coltivati con facilità nei nostri orti di aiutare Grazie a tutti